Arriviamo da Federer e Bruno, che c'è Bruno che sta saltellando con me. No, è Federer quello lì. Sì, Bruno, disegno. Bruno sta disegnando. Bruno disegna. 12 euro per i pantabotti. Ne approfitto per leggere qualche messaggio. Vedo che arrivano auguri di Buon Natale dagli amici del caffè della mattina. Buonasera, buone feste. Auguri da Dimitri, auguri dal vagabondo. Però c'era una cosa che ci premeva farvi vedere. E quindi io chiedo in regia se ci possono mandare così proprio inframuscolare l'ipnobotti. Ma, cioè, io dico. Tutti amano l'ipnobotti. Questo sarà il nuovo tormentone di The Gap. Ogni volta che il nostro amico Botti dirà qualcosa di particolare, partirà l'ipnobotti. L'ipnobotti mi piace. Io non li sopporto più, però facciami un applauso perché sono troppo creativi. Bene. Bene.